Chi sarà l'allenatore della Roma? Questa è la domanda che gran parte dei tifosi giallorossi si sta letteralmente facendo, ponendo. Si parlava di Vincenzo Montella, si parlava di un eventuale ritorno di D.R., ossia di Daniele De Rossi, seppure già fuori dal tipo di gestione, in quanto già è stato allenatore della S.Roma, si parlava però addirittura di un altro personaggio che ha fatto parte del calcio allenato, ossia di Ranieri. Proprio su quest'ultimo sembra che i più importanti, i quotidiani più importanti e autologati, diciamo così, personaggi ne stiano letteralmente parlando. Tuttavia Claudio Ranieri sembra che sia andato, sia finito a Londra, la capitale del Regno Unito, per parlare proprio con i Fredkin per un'eventuale trattativa che lo vorrebbe proprio in qualità di CT di commissario tecnico della S.Roma. Sarà dunque lui il nuovo allenatore? Diciamo che non è certo, non è sicuro, però i più importanti quotidiani, i più importanti e autologati giornalisti che affermano che, con ogni eventuale probabilità, sarà proprio lui Claudio Ranieri a rivestire il compito di nuovo allenatore in sostituzione di Ivan Iulic, che è stato esonerato da Roma. Cosa ne pensate voi? Vi piace? Claudio Ranieri? Non è un personaggio marvagio a mio avviso, però bisogna cercare di capire come effettivamente parlando, se sarà lui l'allenatore della Roma, gestirà il gioco S.Roma. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, si parla di voci di corridoio. Non è certo, non è sicuro che Claudio Ranieri andrà a Roma. Ciao, una buona giornata.